Nella solennità del Corpus Domini, che in Italia e negli altri paesi verrà celebrata domenica prossima, il Papa ha ricordato il senso dell'Eucarestia, forma e centro di tutta la Chiesa, segno di riconoscimento di Cristo e di ogni cristiano. Ripercorrendo il brano evangelico che narra la moltiplicazione dei pani e dei pesci, il Pontefice ha esortato i fedeli non solo a fare memoria di Gesù e di quel suo primo gesto compiuto nell'ultima cena, ma a fare quello che ha fatto lui, a mettere a disposizione il poco per gli altri, come i discepoli con i cinque pani e i due pesci, trasformati poi dal miracolo di Cristo stesso in ceste traboccanti di cibo per sfamare tutti. Quindi ha insistito su un altro gesto, quello dello spezzare il pane e le nostre vite stesse per gli altri. Ma pensiamo anche a tutti i santi e le sante, famose o anonime, che hanno spezzato se stessi la propria vita per dare da mangiare ai fratelli. Quante mamme, quanti papà, insieme con il pane quotidiano tagliato sulla mensa di casa, hanno spezzato il loro cuore per far crescere i figli e farli crescere bene. Quanti cristiani, come cittadini responsabili, hanno spezzato la propria vita per difendere la dignità di tutti, specialmente dei più poveri, emarginati e discriminati. Dove trovano la forza per fare tutto questo? Proprio nell'Eucaristia, nella potenza d'amore del Signore risorto, che anche oggi spezza il pane per noi e ripete fate questo in memoria di me. Subito dopo la celebrazione, la solenne processione eucaristica ha attraversato via Merulana fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore a chiudere la liturgia, il canto del Tantumergo e la benedizione impartita dal Papa con il Santissimo Sacramento. Grazie a tutti.